La serie B di Palma, Salvatore con il numero 10, con il numero 15 Longo Alessandro, con il numero 2 Fusco Emilio, con il numero 99 Luciano Barone, con il numero 7 Giannotta Rocco, con il numero 13 Milite Davide, con il numero 0 D'Amore Gerardo e il portiere sostituisce il numero 12 Ferrara Luca. Luca risponde negli Avvocati con gli uomini contati, in porta a secondino Mario, il numero 18 Spatuzzi, il numero 7 Zitiello, il numero 10 Bisogno, il numero 11 Di Filippo e il numero 21 Pisapia. Palla subito a Barone, che smercia il pallone sulla sinistra, avanza centralmente per Fusco, per Longo, Barone ancora per Fusco, Fusco Emilio, passaggio a Longo, la coppia goal. Subito il numero 15, cerca di affondare, Bisogno, recupera palla, allarga subito per il suo compagno di squadra. Pallone lungo in avanti, finisce in fallo laterale, nulla di fatto, siamo sullo 0-0, è passato un minuto e Pisapia a portare palla, allarga ancora per Bisogno, stop elegante, avanza il capitano Bomber, il numero 10 Bisogno. Intanto Longo, prova ad andarsene sull'alto sinistro, non ha da fare, lancia ancora a centrocampo, dove Bisogno cerca di trovare compagni di reparto, segue Pisapia, prova ad entrare in aria, fermata da Barone, in fallo laterale. Avvocati ancora pericolosi in avanti, ancora Bisogno, a prendere il pallone Malongo, gli ruba palla e se ne va, supera due avversari, poi si perde. Passaggio a Fusco, 1-2 con Di Palma, poi Pisapia subito a smerciare per Bisogno, pallone in fallo laterale. 0-0, Avvocati in avanti, ancora lo scambio con Di Filippo, Bisogno, Pisapia, ancora Pisapia. Puoi il tiro, Ferrara con i piedi, allarga per Fusco, avanza Emilio Fusco, passaggio troppo corto per Longo. Di Filippo, avanza a centrocampo, non ha spazi, chiuso da Barone, prova a portarsi palla, ma la perde su un disimpegno errato. Sterele, l'offensiva degli Avvocati, si chiude bene la New Generation che è pronta a ripartire con Longo. Molto lentamente Longo, prova ad avanzare, cerca il numero su Bisogno. Ci riesce, poi c'è il tiro di Emilio Fusco e la rete, la rete di Fusco, una bomba, ha trafitto il portiere. Il gol di Fusco, 1-0 per la New Generation, è passato subito in vantaggio, la rete di Fusco. Ci ha provato intanto gli Avvocati, subito ha impensierito Ferrara su questa battuta a centrocampo. 1-0 per la New Generation, sblocca il risultato Fusco con un missile. Ancora il tiro, Pallone fuori. Ancora Barone, Longo, Barone. Palla ancora a Longo. Prova di numero Longo, può cercare il tiro, rimpallato di Palma, spara alto. Ci ha provato, subito è impensierile. Ancora Pisapia. Prova ad avanzare Pisapia, allarga il gioco. Massaggia di Filippo. Prova a superare due uomini di Filippo, pallone subito smerciato in avanti. Cambio con Pisapia, attenzione Pisapia. Il tiro, Ferrara si oppone, pallone che viene salvato sulla linea. Ancora Fusco all'indietro. Passaggio a Barone. Barone viene pressato da Pisapia. Pallone a Ferrara che spara in avanti, stessa di Palma, blocca il pallone. Tacchetto elegante per Fusco. Fusco, il tiro! Si rifugia. Secondino in calcio d'angolo. Avanza la New Generation. Ancora secondino con i pugni. Pallone ancora fuori. Ancora bisogno. Barone. Avanza Barone. Si ferma. Luciano Barone. Allarga ancora il gioco per Di Palma. Traversone in area. Non l'ha di fatto. Ancora un traversone. A cercare bisogno. Che prende il pallone al centrocampo. Lo consegna a Pisapia. Cerca di superare Barone. Ma Barone è attento. Pallone poi si fa ingannare dalla pressione di Pisapia. Ancora avvocati che cercano Giuseppe Bisogno come punto di riferimento in attacco. Barone con molta eleganza. Avanza a centrocampo. Passaggio allongo. Quasi a prendere in giro gli avversari. Fusco di tacco. Libera Barone. Siamo a centrocampo. Numero di Barone. Si ferma ancora. Tiro di alleggerimento. Pallone fuori. Nulla di fatto. Partita abbastanza soft per l'arbitro Landi. Ripartono gli avvocati. Attenzione. C'è una sportellata. In fase difensiva. Fallo commesso dal numero 7. Ziviello. Ancora Ziviello. Ciro Ziviello. Pallone in fallo laterale per la New Generation. Che mette palla a terra e fa ripartire Barone. Emilio Fusco. Lateralmente per Sasa Di Palma. Ancora Emilio Fusco. Allarga ancora. Attenzione. Il tiro. La respinta di Secondino. Poi ancora per Fusco. Palla alla New Generation. Che sta affondando gli avvocati. Nella propria metà aria. Ancora Secondino. Stop. Non proprio perfetto. Di Filippo aggancia. Bisogno. Smarca con un tacco. Barone attento. Riparte la New Generation. Barone. Il tiro. Secondino si oppone. Poi la respinta. Longo. Il tiro. Finisce fuori. 1-0. Decide la rete di Fusco. Ma New Generation nettamente superiore. In questi primi 10 minuti di gara. bisogna ancora con un'eleganza. Serve Pisa Pia. Che però fa fatica a controllare la sfera. Ancora Fusco. Longo. Allarga ancora il gioco. Ancora il tiro. Ancora il tiro che si perde altissimo sulla porta. 1-0. Azienda al cap. Riparte la formazione degli avvocati di Cava dei Tirreni. Ancora per bisogno. Parone perso. Ferrara. Allarga il gioco. Ferrara per Fusco. Longo. Cambia ancora il gioco per Barone. Barone centrale per Di Palma. Parone fuori. E un botto in risposta tra i due portieri. Ferrara. Traversone lungo. Di Palma. A pancia per Longo. Pisa Pia. Ruba palla. Se ne va Pisa Pia. Attenzione al contropiede. Pisa Pia per Bisogno. Bisogno. Non aggancia. Buonasera. Non ci crede Bisogno. Ciao Giambi. Ciao. Passaggio buono per Bisogno. Troppo lento e macchinoso. Attaccante. Non è riuscito a controllarsi. E andare contro la palla. Non batte e ribatti. Pallone ancora in falo laterale. Gli guardano gli avvocati. Gli guardano gli avvocati. A sorpresa. Giuseppe Bisogno ci ha creduto e ha insaccato il gol del pareggio. Uno pari. Bombe il Bisogno. Fusco. Pisa Pia. Allega per Bisogno. Bisogno è pronto al tiro. Galvanizzato. E che sventola. Ferrara. Si difende il calcio d'angolo. È una pressione continua adesso degli avvocati che cercano di reagire. Ma sarà dura. Ancora di Palma. Di Filippo ruba palla. Se ne va di Filippo. Allarga il gioco. Attenzione. Bisogno. Il tiro. Ancora la parata di Ferrara. Pallone fuori. Ancora lancio in avanti. Ancora il colpo di testa di Barone. Ancora pallone fuori. Ancora pallone fuori. Ancora secondino. Prova ad uscirne. Pallone fuori. Pallone fuori. Pallone fuori. Un fallo laterale. 1-1. Il pareggio di Bisogno. Tra New Generation e Avvocati di Cava dei Tirreni. Ancora Emilio Fusco. Allarga ancora il gioco per Barone. Cerca il numero Barone. Ci riesce. Passaggio laterale. Siamo sulla destra. Ancora un pallone in mezzo. Rimedia. Ziviello. Seguiamo questo calcio d'angolo. L'arbitro dice che si deve cambiare battuta. Palla agli Avvocati. Lancio lungo. Bisogno. Salta più alti di tutti Barone. Ma bisogno è Caparbio. Prova ad allargare. Per Ziviello. Cerca di mettere un pallone in mezzo per Pisapia. Pisapia aggancia. Poi pallone ancora fuori. Intanto spira un vento caldo sul Dream Soccer. Rimessa a fondo campo. Ptata da Ferrara. Prova ad avanzare la formazione della Generation Team. Con Emidio Fusco. Palla a terra. Il tiro è ancora un euro goal di Fusco. Ha beffato secondino. Si arrabbia bisogno. Due a uno. Ancora lui. Emidio Fusco. Due a uno. Di nuovo in vantaggio la New Generation. Longo. Non ci vuole passi. Longo. Palla a terra. Avvocati costretti a recuperare di nuovo. Paloni in avanti. Ferrara esce. E riprende il pallone. Batterà lui il fallo laterale. Intercetta Longo. Che sbaglia il passaggio. Finisce a fallo laterale ancora per gli avvocati. Che prova ad avere in avanti ancora bisogno. Pallone fuori. Ci ha provato ancora. Giuseppe Bisogno. Ancora Avvocati. Impressione. New Generation si fa vedere in attacco. Pisapia ruba palla. Attenzione. Pisapia avanza. Passaggio per Bisogno. Contropiede Avvocati. Uno due. Si chiude bene. Ci arriva Pisapia. Ancora un passaggio. Numero di Pisapia. Bisogno. La parata di Ferrara. Nega la gioia della doppietta. L'attaccante. Voleva imitare Fusco. Voleva siglare anche lui la doppietta. Ferrara ci si è opposto alla grande. Con un travessone. Tocca la rete. Ferrara. Barone. Fusco. Passaggio per Sassà Di Palma. Sbaglia il passaggio. Si arrabbia Longo. Col capitano Di Palma. Barone smorzato. Avanza la New Generation. Pisapia. Ruba palla. Uno due. Con Pisapia. Tu per tu con Ferrara. Para Ferrara. Si oppone. Attaccano gli avvocati. Di Filippo. Allarga ancora. Polone centrale. Di Filippo. Rete. Due a due. Che gol. Azione combinata sull'asse. Pisapia. Di Filippo. Due a due. Il gol di Di Filippo. Guido. Di Filippo. Pareggio. Pareggio. Parreggio. Di Filippo. Due a due. Si riparte. Ancora il pareggio. Guarda l'amore. Bravi. Bravi. Decido. incredibile pareggio degli avvocati che ci stanno mettendo il loro impegno al massimo questa sera Emilio Fusco a Laga Perlongo consegna la palla al suo compagno di squadra che però si perde in un bicchiere d'acqua Longo il tiro, la parata di Secondino il fallo laterale, pressa la New Generation vuole riportarsi di nuovo in vantaggio cross in alto, Longo che stacco, che gol colpo di testa, Longo la rete del 3-2 il gigante è buono 3-2 Longo l'albero la rete del 3-2 si Longo, uno stacco imperioso di testa Intanto bisogna far riscaldare ancora i guanti a Ferrara Barone, impressione Pisapia New Generation che riparte Urbapalla di Filippo Ancora il numero Tiro alto alle stelle Messa laterale, Pisapia Di Filippo Lanci in avanti di Di Filippo Stop di petto di Bisogno Intanto rientra al secondino Avevo un problema alla vista Sono cadute le lentine Ho dovuto mettere gli occhiali adesso Bisogno, all'indietro Calcio di punizione Giuseppe Bisogno alla battuta Siamo sul risultato di 3 a 2 per la New Generation Vediamo come andrà a finire Tutto è pronto per la battuta Bisogno Già riscalda il suo destro Si posiziona centralmente Parte Bisogno La bomba si infrancia sulla barriera Rimessa laterale Ancora un traversone molto lungo Riesce a mettere palla al centro Ma a lungo riparte Si bevevi sconti Pallone fuori Ancora lungo Ruba palla Attenzione a Di Palma Il tiro Fuori Non era Di Palma Scusate ma era L'altro giocatore Si tratta di D'amore Gerardo Calcio di punizione Al centro campo Longo chiede palla Sbaglia il passaggio Attenzione al contropiede Bisogno Tu per tu con Ferrara Il palonetto Spreca così Una match point La formazione degli avvocati Con Bisogno A tu per tu con Ferrara Ha cercato Il tocco di classe Barone Intanto se ne va Di Filippo Di Filippo Stop di petto Di Bisogno Paloninare Attenzione a Pisapia Para Ferrara Ancora avvocato in avanti Calcio di punizione Calcio di punizione E lo riconsegna a sua volta E lo riconsegna a sua volta Agli avvocati Ancora un lancio lungo per bisogno Troppo lungo Finisce A fondo campo A fondo campo Luca Ferrara Palla a terra Fa ripartire Barone D'amore Sbaglia il passaggio Ma Milite recupera Sbaglia anche lui Sbaglia anche Pisapia Troppi errori banali Riparte la New Generation Barone D'amore Intercetta di Filippo Cross in avanti Ancora Barone Megliore in campo Pallone centrale Il colpo di testa A salvare Di Zidiello Calcio d'angolo Tutto in questo momento Ancora il pallone Si perde A fondo campo Non l'ha di fatto Risultato ancora fermo Sul 3 a 2 Per la New Generation Che pressa ancora Gli Avvocati Riparte Luciano Barone D'amore Longo Longo Una serie di finte Poi perde il pallone Ancora Palla fuori Longo alla battuta La consegna D'amore Luciano Barone Numero di Barone Il tiro Pallone fuori Tra l'altra parte Ferrara è costruito Ad uscire E a bloccare New Generation Che prova a venire davanti Con Giannotto Longo Numero Longo Spara alto Una posizione invidiabile Lancio in avanti di Filippo Colpo di testa all'indietro Rischia l'autogoll Ora La New Generation Con Milite Calcio d'angolo Si incarica a bisogno L'Ariete Pallone direttamente Spalato su Ferrara Ancora calcio d'angolo Un tiro Dentro Come spesso accade Quando tira bisogno Vuole segnare in posizioni assurde A volte ci riesce Davvero bene Stavolta Non è stato così Longo Impressione Ci va bisogno Riesce comunque A portare palla La New Generation Con Barone Passaggio filtrante Per Longo Si gira Pallone rimpallato Fallo laterale Bisogno Tacco per Pisapia Di Filippo Scalciato di Filippo Calcio di punizione È bisogno Seguiamo questo calcio di punizione Giuseppe è bisogno Dalla destra Fischialandi Parte bisogno Il tiro Direttamente in porta Si salva sulla linea Milite Che anticipa anche L'uscita di Ferrara Ancora pallone in aria Pisapia Semina scompiglio Fallo laterale Barone All'alza Barone Cade di Filippo Attenzione a Barone Ballone in mezzo Grande palla Per Giannotta Pallone fuori Pisapia Cerca il numero Recupera Longo La serie di finte Poi il tiro Secondino In calcio d'angolo Buono il tiro di Longo Pallone in calcio d'angolo Pallone in mezzo tagliato Finisce in fallo laterale Rimessa per la New Generation Ancora un traversone Giannotta Allarga per Damone Giannotta Spizzica Poi subito in avanti Dove Barone Chiude Bisogno Poi Bisogno Stava consegnando un buon pallone Per Pisapia Milite Rientra E recupera Palla Lancio molto lungo Che si perde Ancora tre piedi di Secondino Cora avvocati in avanti Attenzione a Bisogno Subito Se non stanno collegato Come fanno Il tiro di Bisogno Pisapia Bisogno Manda pure l'SMS Ancora il traversone Barone recupera Longo Barone fuori Damore Longo Milite Longo La parata di Secondino Ancora in fallo laterale Un minuto di recupero Pallone in mezzo Damore il tiro Pallone fuori Ancora pallone in avanti Esce Ferrara E blocca Allarga per Milite Barone Barone per Longo Barone Subito in avanti Barone Lo consegna a Longo Che cerca di andarsene Palleggiando Il tiro di Longo Fa la barba al palo Calcio d'angolo In avanti In avanti Ancora la formazione Intanto si sbraccia A bordo Campo Fusco Secondino In difficoltà A ribattere Il pallone Il pallone Pallone in avanti Ancora Pisa Pia Cerca il numero Pisa Pia Palla a terra Allarga per Bisogno Bisogno per Pisapia Provate ad andarsene Pisapia la parata di Luca Ferrara finisce qui la prima frazione di gioco 3 a 2 per Agliucena Rescio Grazie 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 Si riprende dal 3 a 2 per gli Avvocati che subito ci provano con questo tiro di Di Filippo Ferrara Barone Longo allarga ancora per Milit Barone D'Amore Palone fuori Di Filippo prova a portare avanti il palone Pisapia contro Barone calcio di punizione per gli Avvocati è entrato anche Pezza adesso per dare più fluidità in attacco pezzo problema fuori ancora un calcio di punizione la battuta ci va di Filippo in porta Ferrara sistema la barriera composta da due uomini parte di Filippo il tiro la palla scheggia il palo alla sinistra di Ferrara ancora rimessa avvocato Pisapia prestato da Barone prova ad andarsene Pisapia Barone fa buona guardia poi Fusco prova ad avanzare Pezza impressione guadagna il palone Pezza ma la palla è per la new generation Fusco in avanti pallone direttamente fuori mi partono gli Avvocati lancio molto lungo ancora Pisapia scalciato c'è fallo c'è la di Filippo calcio di punizione di Filippo sulla palla in aria tutta gli avvocati parte di Filippo il tiro penetra la barriera poi pezza tira ancora di Filippo ambattessa di longa di Filippo ancora il tiro respinge Milite bollaggio per Fusco in aria ci abbatta la parata di second tiro poi pallone che viene calciato da Fusco però il fallo laterale ripesta dal fondo ancora pezza scontro di gioco tra Pisa Pia ancora Pisa Pia pallone in fallo laterale Luca Ferrara pallone a Barone Barone per Milite sale ancora la formazione della New Generation Generation Team Barone avvocati che ripartono attenzione a Longo il missile pallone fuori ancora New Generation con Milite può portare palla la consegna al suo compagno Longo Longo una serie di finte poi Damore cade Longo D'Amore pallone in fallo laterale calcio di punizione per la New Generation Longo l'abbattuto il tiro di Longo la parata di Secondino lo ti vincola rimessa da fondo recupera Pissapia ancora avvocati che provano a reagire 3 a 2 il parziale c'è ancora tutto da decidere Fusco, Damore allarga per Barone il tiro di Barone, pallone ancora fuori attacca la New Generation pezza spiovente in aria, sbroglia la matassa di Filippo pallone in avanti, esce Ferrara madagna un fallo laterale gli avvocati, bisogno in panchina Pissapia, pezza ancora per Pissapia cerca ancora pezza, non lo trova Fusco riparte, Longo si fa vedere 1-2, lungo Fusco azione perfetta, pallone che riesce, non riesce a trattenere in campo stop elegante di Luciano Barone ah scusa scusa lì quello è fuori ancora Longo si chiudono bene gli avvocati riparte con Di Filippo fermato di Filippo e poi Longo la rete del 4 a 2 ancora Longo, 4-2, doppietta per Longo e doppietta per Fusco Pissapia Pissapia passaggio per Bisogno ancora Pissapia avvocati sotto di due gol adesso Bisogno spara fuori lancio lungo ancora per Longo troppo lungo secondino fa buona guardia fa ripartire i suoi Pissapia lunga per bisogno chiuso da Milite ancora Pissapia Milite il tiro deviato palla in calcio d'angolo ancora palla bassa di Filippo prova ad uscirne pallone in fallo laterale senza sosta questa partita tra New Generation e avvocati di Cava di Tirreni 4-2 per la New Generation doppietta di Fusco doppietta di Longo Longo ancora scatenato Longo pallone fuori si divora un gol già fatto bisogno scatenato si arrabbia cerca un tocco per Pissapia Ferrara Ferrara per Pissapia per Pissapia per Pissapia M